ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco rflog rk euroterapici spa ultimo aggiornamento 6 novembre 2021 cosa rflog confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia contro indicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere rflog durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli ecipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa rflog rflog ha un farmaco a base del principio attivo nimesulide appartenente alla categoria degli stomatologici e nello specifico altre sostanze per il trattamento orale locale è commercializzato in italia dall'azienda rk euroterapici spa rflog può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni rflog 1 mg barra ml collutorio flacone 200 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare rk euroterapici spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo nimesulide gruppo terapeutico stomatologici forma farmaceutica collutorio indicazioni trattamento sintomatico degli stati irritativo infiammatori anche associati a dolore del cavo oro faringeo ad esempio gengibiti stumatiti faringiti anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva posologia 3 sciacque e barra o gargarismi al giorno con 15 ml utilizzando l'accuso misurino pari a 15 mg di nimesulide di rflog collutorio diluito con un po d'acqua o in forma pura bambini rflog collutorio non ha stato studiato nei bambini pertanto la sua sicurezza ed efficacia non sono state dimostrate ed il prodotto non dovrebbe essere impiegato in età pediatrica controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli accipienti l'uso di rflog collutorio ha inoltre controindicato in quei soggetti nei quali si siano verificati dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei reazioni allergiche quali rinite orticaria o broncospasmo avvertenze speciali e precauzioni di impiego rflog collutorio non deve essere deglutito pertanto l'uso del medicinale ha sconsigliato negli anziani defedati e in genere nei soggetti con difficoltà a deglutire l'uso specie se prolungato di nimesulide vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione allo stato attuale non sono emerse interazioni con altri farmaci vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere rflog insieme ad altri farmaci come eurosacido acetilsalicilico angelini a euro eurosacido acetilsalicilico doc generica euro eurosacido acetilsalicilico più acido ascorbico copa euro eurosacido acetilsalicilico e ga euro eurosacido acetilsalicilico corca compressa gastro resistente a euro eurosacido acetilsalicilico foma euro eurosacido acetilsalicilico milana euro eurosacido acetilsalicilico sanduza euro eurosacido acetilsalicilico teva italia euro eurosalvopirina euro eurosalcaifera euro eurosantireumina euro eurosascriptina euro eurosaspirina act dolore infiammazione euro eurosaspirina cauro eurosaspirina compressa euro eurosaspirina dolore e infiammazione A euro euro saspirina e Ferve. Più vitamina C granulato A euro euro saspirina granulato euro euro saspirina influenza naso chiuso euro euro saspirina rapido a euro euro saspirinetta a euro euro exercise cardiella euro euro 1000 euro scolpido graele aceto acetilsalicilico milan euro Euro scowmadina euro euros duoplovina euro a Euro seus piflu a euro euros frobe flo a euro a euro si stanta la euro a euro sneoni si dina ca euro a euro sneoni si dina euro a euro sintoma euro a euro svi in a euro a euro svi vinca euro eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere il reflod durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere il reflod durante la gravidanza e l'allattamento l'uso di reflod collutorio dovrebbe essere evitato in gravidanza e durante l'allattamento al seno vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari e reflod collutorio non influisce sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati allo stato attuale non sono stati segnalati effetti indesiderati come con ogni medicinale per uso topico a tuttavia è possibile la comparsa di lievi fenomeni di irritazione locali e reazioni da vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio non si prevedono manifestazioni tossiche da sovradosaggio dopo applicazione topica di reflod collutorio poi cai picco plasmatico massimo di nimesulide dopo applicazione annettamente inferiore a quello raggiunto dopo somministrazione sistemica proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antinfiammatori non steroidei per il trattamento locale codice atc a 01 ad 11 la nimesulide a un antinfiammatorio non steroideo fans ad azione antiflugistica antipiretica e analgesica la nimesulide a un proprietà farmacocinetiche le concentrazioni plasmatiche di nimesulide sono determinabili da 2 a 5 ore dopo la somministrazione con una concentrazione plasmatica massima pari a 758 ng barra ml 374 volte inferiore rispetto alla minima dati preclinici di sicurezza la tollerabilità locale e la capacità di indurre irritazione e sensibilizzazione di nimesulide sono stati valutati in diversi modelli animali i risultati di questi studi hanno dimostrato una buona tollerabilità elenco degli eccipienti etanolo 96 per cento sodio bicarbonato sodio benzoato potassio acesulfame poloxamer sodio idrossido aroma dentifricio di sodio ed etato metiltioninio cloruro acqua depurata farmaci equivalenti di farmaci equivalenti di reflog a base di nimesulide sono acta lide fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la parma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti